domenica 13 febbraio nella basilica pontificia santa maria assunta di castellabate la diocesi di valo della lucania e la forania di castellabate cilento hanno organizzato la cerimonia di adorazione eucaristica per il sinodo per una chiesa sinodale comunione partecipazione missione l'evento inizierà alle ore 16 e sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook della parrocchia